Ciao a tutti, buonasera! Il mio nome è Giampaolo Maltese, lui è il pupazzo Johnny! No 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 no! Ah no? No 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 no! Chi ha detto che sono un cocozzo? Come chi l'ha detto? L'ho detto io! E tu chi sei? Il ventriloco! Venti che? Gesù il ventrilo, ventrilo! I am the ventriloquist! In italiano ventriloquist! Tri-lo-quo. Ah, ventriculo. Ripeti insieme a me. Ven-tri-lo-quo. Devi sapere che io so emettere dei suoni senza muovere il cu... No, il sederino. Johnny? Sì? Ti ricordo? Sì? Ci sono donne e bambini. Eh? I bambini. No, 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 l'altro. Le donne... Ma che fai? Tu non puoi piacere alle donne? Senti. Cosa c'è? Io ho avuto quattro mogli. Tu? Sì. Hai avuto quattro mogli? Sì. E dimmi... Chi è stata la peggiore? L'ultima. Perché? Ce l'ho ancora. E la prima? È morta. Ah, mi dispiace. Eh, no, ok, ho capito. E com'è morta? Così. Le hanno tirato il collo? No. No? Funghi. Funghi? Sì. Ha funghi avvelenati? Sì. E la seconda? È morta. Le hanno tirato il collo? Funghi. E la terza? È morta. Pure. Ho capito. Funghi? No. Come no? Le hanno tirato il collo? E chi è stato? Io. Perché? Non voglio annunciare i funghi. Grazie. Thank you. Signore e signori. 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 Johnny? Sì. Conosci le lingue? Sì. Francese? Sì. Inglese? Sì. Proviamo. Parli tu francese? Oh, yes. Do you speak English? Do you care? Tu parli l'inglese? Yes. Ok. Ok. No, no, no. Devi dire yes. Yes. Benissimo. Ok. Yes. Yes. Un'altra parola in inglese. La conosci? Yes. Quale? Ok. In inglese uno si dice one. Uno si dice one. Due. One, one. Ma sei in pena di prendermi il giro? No, 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 no. Due in inglese si dice two. Che schifo. Prova tu. Se une, one. Une, one. Due. Ocho. Ma un'altra lingua la conosci? Giapponese. Ah, andiamo sul difficile, dai. Di una parola in giapponese. Toyota. 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 Non potevo trovare un partner più stupido. Dove non lo vedo? Sei tu, ignorante. No, io sono Johnny. Invece, piuttosto, hai visto dove siamo? Dove? Siamo al Festival Internazionale del Circo d'Italia. Wow. Hai visto che bella manifestazione? Bellissima. Fantastic. Fantasticissima. Beautiful. Beautiful. E in giapponese? Toyotissima. Ma il tuo giapponese, dico, è tutto qui? No. E allora perché non saluti il pubblico? Devi dire, buonasera in giapponese. Ado? Vai. Buonasera in giapponese. Johnny, per favore, di buonasera. Buonasera. In giapponese. Ah, Toyota. E se dicessi buongiorno? Suzuki. Buonanotte. Kawasaki. Mia sorella. Kanasutra. E dopo questa? E? Ti rimetto nella valigia. E la canzone? La canzone? Ma io non ho preparato una canzone. Io sì. Tanto per non creare false illusioni. Sono io che ti faccio parlare. E se non ci fossi, tu non canteresti. Se non ci fossi, tu non canteresti. Ah, 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 ah. Inconinciavo a volare nel cielo infinito. Tutti, tutti, tu. Volare. Cantare. Wow, maestro. Musica. Grazie mille. Grazie mille. Grazie. Tanti mi domandano, ma come si fa per diventare ventrilo qui? È un dono di natura o tutti quanti possiamo imparare? Adesso, in un modo un po' particolare, ve lo scoprirete fra poco, signori maestro musica. Buonasera, signori, ma che bel pubblico che abbiamo. Buonasera, disturbo. Lei, sia così gentile di alzarsi agli piedi. Grazie mille. La signora ride. Signora, non si preoccupi. Faccia compagnia al marito. Prego, si alzi agli piedi anche lei. Grazie mille. Prego, avvicinatevi da quella parte. Dovete raggiungere la pista. Buonasera, anche a lei. Tutto bene? Si alzi agli piedi. Grazie. Prego, segue, signori. Buonasera, signori. Tutto bene? Lei, si alzi agli piedi cortesemente. Lei, lei, parlo con lei. Venga, venga qui, non si vergogni. Venga. Eccoli qua. Prego, i nostri ospiti. E qua scatta l'applauso. Forte. Avvicinatevi, grazie. Prego. Fate qualche passetto avanti. Stop. Guardate sempre avanti. Distanziatevi un poco, cortesemente. Lei si mette da quella parte. Bravissimo. Lei qui, alla mia destra. Quadro completato. E l'applauso. Scusate, chiedo scusa. Chiedo scusa per il disturbo. Buonasera. Però, dico, buonasera, signorina. Buonasera. Buonasera. Ma, dico, ne abbiamo parlato sin dall'inizio. Igenizzazione, sanificazione. Vogliamo prendere la gente. Però, seguiamo delle disposizioni. Allora, la distanza, signore. Lei già si è avvicinato troppo al... Allora, un metro, almeno qua, scusi. Un metro... Ma, sì. Un metro di distanza tra tutti. E poi, faccia cosa vuole, basta che mi dia il metro qua. Lei si avvicini. Troppo. È troppo. Quando è troppo. Il metro c'è. Poi, le mani, il lavaggio delle mani è fondamentale. Quindi, si genizzi. Lei dia il buon esempio che fa... Una. Ne do due. Che poi finisce. Ecco. Si genizzi anche lei. Si genizzi anche lei. Sì, ce n'è uno. Si genizzi anche lei. Ah, scusi, non avevo... Bene, ecco, questo lo lasciamo qua. C'è un modo specifico per igienizzare le mani. Ora, lo facciamo tutti insieme. Mi raccom... Aspettate, già cominciano. Prego! Seguitelo, eh. Voilà. Grazie. Questo è il modo da usare sempre. Grazie. Complimenti. Lei è bravissima, eh. Bravissima. Ma se non ha fatto niente. Appunto. E la... Arrivederci. Fatti il clown. Mascherine le avete, eh? Se serve. Arrivederci! Ciao. Scusate. A proposito di mascherine, abbassate. Eh, veramente, devo iniziare io. Abbassate la mascherina. Grazie. Fino al collo. Grazie mille. Tranquilli, adesso non ci saranno problemi. Mi dia la sua mano destra. Lei mi dia la mano sinistra. Quando stringo la mano, dovete semplicemente aprire la bocca. Quando la lascio, la chiudete. Stringo, apre, lascia e chiude. Stringo, apre, lascia e chiude. Le ha capito? Sì. Ha capito? Sì. Tutto bene? Sì. Sicuro? Sì, sì, sì. Prova a dirlo più veloce. Sì, 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 sì. Prova a dire no. No, 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 no. E da solo? No, 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 no. Mi ha fatto confondere anche a me. E da solo stasera, quindi? No. Con chi è? Con le moglie. Chi sarebbe la moglie? Quella lì. Dov'è? Là. E là? Là. Signora, buonasera. Io non la vedo. Quella con le corna. No. Vediamo lei. Stringo la mano, apre la bocca, lascia e chiude. Dicono che il signore ha una voce davvero maschio. Ah. Scusi? Ah. Ah. Tutto bene? Ah. Le è andata bene a lei, eh? Ma sto stringendo troppo? No, no, mi piace. Va bene. Bravi, bravi. Adesso tocca a lei. Mi dia la mano. La vedo un po' sconvolta. Perché? Voglio la nanga. Come? Voglio la nanga. Vuole la mamma? Ok, ho qualcosa che fa per lei. Prego, signori, da questa parte. Non si preoccupi. Guardi sempre avanti, si rilassi così. Verissimo. Ecco, qua c'è un buco. Lo centri? Bene. Bravissimo. Grazie, Rubi. Prego, si sieda. Mi dia la manina, non si vergogni, non si preoccupi. Si rilassa. Ma perché piange? Voglio la nanga. Ho capito. Perché vuole la mamma? Devo fare una chicchia. Ok, dopo. Signora, eccomi. Tocca a lei. Ha il compito di salutare questo meraviglioso pubblico. Ovviamente, stringo la mano, apre la bocca, lascia e chiude. Con tutta la sua dolcezza. Guardi avanti e dica ciao. 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 Tutto bene? Sì. Mi sa che il suo marito è andato via. E che se ne frega. No. Bella voce la signora. La chicchì. Ok, dopo. Lezione di antropologia. Dicono che l'uomo discende dalla scimmia. Anche la donna. La donna? Sì. Discende dalla scimmia? Sì, 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 sì. E chi glielo fa pensare? Mia suocera. Giusto. E per chiudere in bellezza, canterete una canzone. La dedichi alla suocera. Signori, a voi. Volare. Maestro. Musica. Mi raccomando. Prego. Scusi. Lo spettacolo deve proseguire. Ma perché fa così? Sono una donna e non sono una santa. No. Bravo. Prego. Mi dia la manina. La canzone. Volare. Sono le tagliatelle di nonna Fina. Ha sbagliato. Signora, continui lei. Prego. È pronta? Sì, sono pronto. Signora, puoi gentilmente far uscire il suo lato femminile? Ok. Brava. Volare. Bravissima. Prego. Brava. Grazie. Felice di stare là. Là. La canzone, dai. Là. La Kiki. Bravissimi. Grazie. Gianpaolo Maltese. Sì. Grazie. Grazie a tutti. Si. Sì. Grazie a tutti